c'è la carta bianca al prossimo corso che faccio sei mio ospite io registro c'è le prove insomma relativamente direi oggi assolutamente c'è combattibile due qua sera in pellicola però bravo ecco bravo passi piccoli pure sotto pure sotto eh ecco bravo metti la gamba fuori la gamba fuori chiudilo chiudilo con le gambe la buttati fuori bravo buono buono stagliogli la strada diretto sotto sotto sopra buono non caricateli bravo 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 dopo di entrare questa non c'è vai vai bravo bravo cominci a lavorare bene con questo gemmo bravo vedi con il gemmo buono bravo bravo due gemmo la buttati fuori la buttati fuori la buttati fuori due gemmo direi respira 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 bravo 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 non mi vuoi rientrare bravo bravo sempre composto sempre composto mettete quel gemmo mettete quel gemmo qua eccolo vado prende iniziativa eccolo bravo bravo però non un colpo solo Adi non un colpo solo composto sempre composto eh va bene va bene eccolo 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 vai 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 Adi bravo ti sono con scelte dall'altra bravo vai bravo vai fai lavorare a tua velocità buttati fuori buttati fuori vado bravo 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 va bene così bravo bravo lavorare a tua velocità scotta scotta la testa su quei gemmo avanti bravo bravo non un colpo solo Adi non un colpo solo 10, 10 finisci lì bravo 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 bene, non c'è di fuori addi no i ganchi inizia, inizia diretto dentro buttati fuori buttati fuori bravo bravo stagliati sciolto vedi, sciolto non caricare i costi, più sciolto andate un po' di dietro eccolo non lasciarlo mai non lo dovi fare pure buttati fuori buttati fuori buttati fuori attacca stagliati 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 si vedeva capire questi che stanno dietro va bene con la luce ho provato a giungere ci vantavo qui ci sarà Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.